Inaugurata la cittadella del mare presso il sottopiazza Concordia Salerno, in occasione del rinomato nonché prestigioso ventesimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Tanti gli eventi, le conferenze e le mostre che animeranno il capoluogo salernitano fino a domenica 29 settembre. Non poteva mancare la presenza e il sostegno di Banca Campagna Centro, vicina alle iniziative di carattere nazionale che sostengono la città e mantengono vivo il territorio. Avremo qui il piacere di ospitare l'Amerigo Vespucci, che è una nave che fa fare la fila alle persone, file chilometriche, perché è qualcosa di assolutamente suggestivo. È un veliero con il quale si naviga con la forza dell'intelligenza e la sapienza delle mani. Avremo il piacere di ospitare la banda che terrà un concerto bandissimo, la banda della Marina. La città sarà piena di episodi festosi che faranno in modo che il soggiorno dei nostri ospiti graditissimi, ma anche dei cittadini salernitani e di quanti verranno a Salerno per la circostanza, possa essere assolutamente gradevole. Questo è stato un nostro obiettivo, quello di interfacciarci in maniera continuativa con la Marina Militare. Noi ne facevamo parte fino a qualche anno fa, per incentivare, per fare in modo che il Vespucci fosse presente a questo grande avvenimento. Era un po' un problema, perché il Vespucci, come alcuni di loro sapranno, in questo periodo sta facendo la campagna estiva con gli allievi, per cui le date erano un po' in bilico, ma alla fine la Marina Militare ha fatto di tutto perché l'unità fosse in porto. Quindi ci sarà, arriveranno il 27 sera, insieme all'altra nave, che è l'Alpino, che è una nave di nuovissima generazione, nuovissima proprio, una classe Frem, e quindi costituiranno una cornice bellissima a questo evento. Sicuramente sì, come banca di riferimento sul territorio, la banca è sempre presente in qualsiasi tipo di manifestazione. In particolare la città di Salerno, come diceva poc'anzi il sindaco, ha un forte legame con il mare, e quindi quale migliore occasione per la presenza della banca della città? Sicuramente per essere presenti sul territorio e presidiare anche il territorio apportando prodotti finanziari e di sopporto all'economia locale. Non per niente siamo la banca del territorio.